Per quanto riguarda la petizione sulle aree sud di Milano, che è una vecchissima petizione che riguardava il consumo del suolo nel sud Milano, la Commissione ha deciso di archiviarlo perché è una petizione che è aperta da più di dieci anni. Devo dire che i petizionaires avevano puntato il dito l'attenzione sul nuovo stadio di San Donato ma di fatto da quello che è emerso alla discussione oggi e anche da quello che ci è stato suggerito dall'intervento della Commissione è necessario presentare una nuova petizione che riguardi in particolare il pregio di quell'area, una petizione nuova che tenga soprattutto conto questo ci è stato proprio suggerito dai responsabili della Commissione della nuova direttiva sul monitoraggio dei suoli che dovremmo approvare nella prossima plenaria.